Abbiamo un inedito, voce e chitarra, è un pezzo live, molto importante anche perché c'è una doppia difficoltà nel suonare e nel cantare. Omar vieni, vieni Omar, eccolo qui. Così ci facciamo anche una chiacchierata con te. Vuoi raccontare intanto qualcosa del tuo brano? Beh, il mio brano, non so che raccontarvi veramente, l'ho scritto così di getto e quindi lo suono così di getto. Ma scusa, prima hai raccontato, ero in bagno, ho pensato al testo e l'ho scritto, basta. Basta, sì, in pratica è così. Diciamo che è un testo che è venuto in base alla musica e non viceversa e è uscito così. Una curiosità, scusa, di che parla così? Il tema qual è? Guarda, il tema, tocca vari temi, in genere parla di quello che vedo, di quello che ho visto mentre scrivevo questo testo, specialmente nei momenti, diciamo, veramente precedenti alla scrittura del testo appunto. Allora, dovete sapere che come tutti i ragazzi del quinto entrano appunto che sono dei ragazzini e poi ecco diventano ragazzi, adulti. E quindi Omar ha fatto un bel percorso come spettacoli di recitazione, ma oggi il brano è molto importante perché è un tuo brano, quindi è la prima volta che lo presenti. Quindi è veramente una grande occasione e quindi ti auguriamo tante belle cose, una grande e lunga carriera come interprete, ma anche come autore. Speriamo. Prego. Grazie. Omar. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.